Sicuramente troviamo per l'ennesima volta un attacco che sfiora i 100 punti, hanno caratteristiche ben definite, gli piace giocare a palacanestro in una determinata maniera, hanno 5 giocatori che vanno in doppia cifra, quindi il pericolo non viene solo da uno o da due, quindi dovremmo lavorare di squadra. Dovremo ancora ulteriormente migliorare e proseguire sul percorso che stiamo facendo dopo le ultime due o tre partite, è ovvio che il livello di attenzione sarà massima perché sappiamo e abbiamo rispetto del loro talento, di quello che possono fare e sono in grado di poter metterci in difficoltà, di poter vincere contro chiunque. Sarà una bellissima partita e l'importante è tenere costante il ritmo e giocare la nostra palanestro, imporre il nostro ritmo per tutti i 40 minuti, perché poi quando giochi con queste squadre, come è successo a Treviglio, spegni, togli la corrente per due o tre minuti e vai sotto, è poi difficile, puoi riprendere il bandolo della matassa. Quindi chi imporrà il proprio ritmo credo che abbia più chance per vincere. Credo che quando incontri squadre con questo tipo di statistiche individuali o di squadra, la responsabilità individuale sia la prima cosa su cui lavorare. Quindi tutti i duelli uno contro uno andranno vinti o cercare di poterli vincere nella metà campo difensiva e poi arriva il lavoro di squadra. D'altro canto metterli anche pressione nella metà campo loro, cioè farli lavorare di squadra il più possibile. Numericamente credo che i progressi si siano visti in attacco raddoppiando il numero degli assist nelle ultime tre partite, condividendo ancora di più la palla. Non iniziando a difendere quando facciamo canestro, ma magari iniziare a difendere prima. Quindi credo piccoli passettini in avanti per quello che dobbiamo fare si sono visti. È ovvio che non siamo ancora a livello, nel senso di quello che ci piacerebbe essere, ma è novembre. Sarei preoccupato del contrario, ma progressi si sono visti. È ovvio che poi domani bisogna cercare di portare questa prestazione spalmata su tutti i 40 minuti.